Quando hai dei genitori comunque in vista, comunque che possono fare anche delle cose sbagliate che se fanno delle cose sbagliate rendono tutto pubblico, io potevo veramente avere una vita molto più borderline se vuoi e quindi forse i figli comunque mi hanno deviato verso la strada giusta, ecco quello sì. Grazie.